40.000 pasti di cibo secco ed umido per le colonie feline di Arezzo. Si tratta dell'ottava donazione del Comune alle custodi che potranno ritirare al canile comunale sino a domenica 21 aprile una quantità proporzionale al numero totale dei mici ospitati. È un'altra grossa donazione che arriva dal Comune di Arezzo a favore delle colonie feline e devo dire che anche questa volta la sensibilità dell'assessore Carlettini ha accolto e recepito le richieste numerose. Queste colonie sono in continuo aumento, le necessità sono tante, ora vedrete che l'acquisto è stato veramente importante però chiaramente diluito in tante colonie. Sono circa 210 le colonie feline censite nel territorio comunale di Arezzo. Va fatto, ricordo, il censimento presso l'ufficio ambiente del Comune di Arezzo, la dottoressa Merli che se ne occupa e poi da lì parte tutta la procedura del censimento e anche della necessità di sterilizzazione che avviene da due anni, anche questa è la novità che sta funzionando benissimo, della stanza degenza. Cioè i gattini vengono accolti in questa stanza degenza due giorni prima, portati da noi alla ASLE a operare, rimessi per i posti operatori e poi restituiti in colonia. Ovviamente anche questo è un passo in avanti che abbiamo avuto proprio con l'assessorato alla protezione, al benessere degli animali e quindi sono importanti innovazioni che portano a un meccanismo sicuramente a vantaggio della città.